Allora Anche se ho cambiato watch tipo 4570 volte E sa molto di copyright Tra l'altro E spero vivamente di non essere segnalata Ho deciso Di partecipare all'edit shop di Millie E voi vi starete chiedendo Che cazzo è un edit shop? Per chi non lo saprebbe L'edit shop è quando praticamente una gaccia tuber Fa un edit o un disegno A un'altra gaccia tuber In questo caso Millie ha deciso Di fare un edit shop per i suoi iscritti Ha detto nella descrizione Che se il loro watch Convincono la ragazza Lei gli farà un edit Quindi ho deciso di partecipare Perché essendo grande fan di Millie Anche perché la trovo bravissima Gli darò il mio watch E vedremo se lei me lo farà Quindi Ecco il mio watch che sa molto di copyright E niente Millie fa il mio watch Che cazzo è questo? Che cazzo è di fare un'altra gaccia